Da quanto è emerso in una classifica del 2021, il 47% degli italiani odia fare le pulizie di casa e preferisce delegare. Ma chissà se forse con questo video riesco a farti cambiare idea. Perché devi sapere che le pulizie di casa possono avere molteplici benefici, soprattutto a livello psicologico. Direi che di questi tempi ne abbiamo bisogno un po' tutti. Quindi bondo le cianci ed ecco a te 5 modi in cui le pulizie di casa migliorano la nostra salute mentale. Iniziamo subito con la prima, la prima delle 5 ragioni che dovrebbe spingerti a fare le pulizie. E' proprio quello che facendo le pulizie hai maggiore controllo sui propri stati emotivi. Tant'è vero che uno studio del 2017 condotto su giovani adulti ha messo a punto in luce il fatto che il disordine sia collegato alla tendenza di procrastinare. E di conseguenza il fatto di sentirsi sopraffatti e più in generale ha una qualità di vita peggiore. Tant'è vero che come spiega la psicologa che ha intervistato i giovani, l'ambiente in cui viviamo infatti può fungere da contenitore per i nostri stati emotivi e psittici. Ordine e organizzazione dunque possono aiutare ad avere un maggior controllo sulla propria vita e a sentirsi così più capaci di gestire situazioni ed emozioni. 2. Le pulizie agiscono come antistress. Ebbene sì perché avere un ambiente intorno ordinato giova indubbiamente alla nostra salute mentale ma anche l'atto fisico del fare le pulizie può rappresentare un toccasana. Il motivo? Il fatto è che occupandoci delle faccende domestiche rilasciamo endorfine le quali agiscono come antidolorifico e antistress. Quindi la prossima volta che sei nervosa o stressata prendi il panno e sfrega il bagno. Vedrai che sicuramente questa cosa funzionerà. 3. Le pulizie migliorano la concentrazione. Anche questo è stato anche scientificamente dimostrato da uno studio del 2021 quindi proprio una cosa fresca fresca fresca. Le pulizie possono potrebbero migliorare la concentrazione ma per diversi motivi. Innanzitutto in un ambiente pulito ordinato andiamo a ridurre quelle che sono le nostre distrazioni sia visive che sensoriali le quali possono interferire con la capacità di concentrarci su quella che è una determinata attività. Il secondo punto è che il processo di pulizia può essere visto, sempre in merito a questo studio, come una forma di meditazione o di esercizio mindfulness. Ma effettivamente se noi pensiamo ai monaci buddisti o quel famoso libro che era stato scritto, il manuale del monaco buddista, quello raccontava appunto che la loro forma di pulizia era proprio davvero una forma meditativa. Quindi sì, sì, mi trovo proprio d'accordo con questa affermazione. Ad ogni modo pulire aiuta a liberare la mente dalle preoccupazioni e dallo stress, favorendo così quella che è la concentrazione. E infine vogliamo parlare del senso di soddisfazione e di realizzazione che si prova dopo aver completato un compito. Questo sicuramente può aumentare l'autostima e la motivazione, migliorando così la concentrazione e di conseguenza la produttività complessiva. Quindi sì, fare le pulizie aiuta e migliora la concentrazione. 4. Le pulizie aiutano a gestire meglio le nostre emozioni. Tutto questo perché? Perché per molti di voi invece il sabato e la domenica fare le pulizie concentrate nel weekend non è un atto di stress, ma anzi per voi è sinonimo di rallentare. Rallentare da quella che è la settimana di corsa tra lavoro, figli, scuola. Invece il sabato e la domenica siete a casa, avete più tempo da dedicare alla casa, quindi rallentate e per voi è come prendervi appunto una pausa da tutto quello che è il corri-corri generale. Tutto questo può avere un effetto calmante, soprattutto in situazioni da cui ci si sente sopraffatti, aiutando quindi a esplorare e gestire meglio le proprie emozioni. Di conseguenza fare le pulizie, in altre parole, può essere dunque un ottimo modo anche per sfogare fisicamente la frustrazione e tutto il peso della settimana. E per ultimo, cinque, le pulizie favoriscono una sensazione di stabilità. Stabilità perché che lo vogliamo o no? Noi esseri umani siamo inclini alle routine, che magari non siano per forza solo correlate alla casa, ma in realtà è così, perché le routine offrono stabilità, soprattutto in circostanze che altrimenti sarebbero caotiche. Ed ecco dunque che mantenere in ordine i propri oggetti, la propria casa, può assecondare quel senso di routine e di familiarità di cui si ha bisogno. Ovviamente, per routine, ci teniamo a precisare e a sottolineare che non significa necessariamente che tutto questo deve essere sempre perfettamente allineato e coordinato, sia nella palette dei colori, che non lo so adesso, mi viene in mente la palette dei colori perché io ho tutto giallo. Però, tutto questo per dirti che il senso dell'ordine è davvero soggettivo e che può variare molto da una persona all'altra, come le routine possono variare molto da una persona all'altra. Ma, per concludere, avere delle routine favorisce la sensazione di stabilità. E la nostra casa è pulita, io ancora una volta con questo video non voglio assolutissimamente insegnarti niente, ho semplicemente condiviso ciò che ho letto. Spero che questo video ti abbia innanzitutto fatto compagnia. Io credo che un pochettino sia vero quello che ti ho appena detto, proprio perché l'ho provato sulla mia pelle. Quindi, se sei una persona che tende a procrastinare, se credi di essere un pochettino nervosetta in questo periodo, prova magari ad ordinare quelle che sono le tue stanze e casa tua e prova davvero a sentire se effettivamente almeno uno di questi cinque punti con te ha funzionato. Io ti mando un abbraccio grande, grande, grande e grazie se sei stata con me fino alla fine di questo video e noi ci vediamo venerdì! Ciao a tutti!